Grazie per essere qui a Manfredoni e grazie per essere per la prima volta ai nostri microfoni. L'avvocato Patroni Griffi che è il presidente dell'autorità portuale di sistema, un'autorità portuale di sistema che per essere parturita ha avuto bisogno di tanta reazione, di concertazione tra i vari soggetti che chiaramente ritenevano di essere ognuno importanti per una loro peculiarità, però stare insieme è fondamentale. Io penso che oggi abbiamo una massa critica importante, abbiamo evitato di distruggerci la vicenda perché abbiamo dei porti che fino a ieri si facevano concorrenza ma addirittura sleale con dumping, dando servizi a un costo minore di quello sopportato. Oggi questo non accade più, funzionano come un meccanismo, dovrebbero funzionare come un orologio e si può fare una strategia che tenga insieme tutto l'Adriatico Meridionale. La strategia che stiamo facendo, il discorso delle ZES riguarda tutta l'autorità, il discorso del corridoio 8, del recupero del corridoio 8 e quindi verso Burgas nel Mar Nero riguarda tutta l'autorità. Intercettare il traffico che può arrivare molto, un traffico importantissimo che io vorrei canalizzare verso i nostri porti, quello del Roropuro dalla Turchia, dall'Asia Minore riguarda tutta l'autorità. Quindi sono una strategia che riguarda l'intera autorità, bisognerà ovviamente agire sulla struttura, ma questo è quasi pronto ormai, il rendere autonoma e attribuire una parziale autonomia per farli funzionare agli hub, io ne vedo tre, Manfredone e Barletta, Bari, Monopoli e Brindisi e poi l'autorità come un cappello che unisce tutto insieme. Qualsiasi persona nel momento in cui ha dei problemi nel campo del diritto amministrativo si rivolge a lei per un parere, per risolvere un problema perché lei è forse uno dei massimi rappresentanti del diritto amministrativo. Quanto è difficile creare competenze a vari livelli per saper coniugare sviluppo con quelli che sono gli obblighi amministrativi delle varie amministrazioni perché c'è da lavorare molto anche in questo? Allora io invito tutti coloro che hanno avuto la fortuna come l'ho avuta io di poter acquisire delle competenze, di pensare al territorio, di mettersi al servizio del territorio, magari di prendersi un anno sabbatico dalle proprie attività, di ridurre il proprio impegno, per me è stato necessario ridurre l'impegno per esempio nell'università, per cercare di dare una mano. Chi ha acquisito le competenze non può rimanere inerte rispetto al grido di dolore del nostro territorio che ha perso 13 punti di PIL dall'inizio della crisi e questo PIL va recuperato ora che si vede una uscita dal tunnel della recessione. Grazie Grazie Grazie